Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi misureremo i decibel della BMW 6,35 CSI. Lo scarico non è del tutto originale, ma prima di iniziare, sigla! Solito passo, e accendiamo. 81-82 decibel al minimo, ma piena potenza, quanti decibel farà? Aspetta! 127.1, incredibile! Io già me l'aspettavo perché lo scarico non è proprio originale, e si qualifica quasi nella top 5 delle mie macchine. Ringrazio il proprietario Dennis, che è un profilo Instagram, che è scritto qua sotto, ovvero... ovvero... Clip bianco e nero, salvala! Ovvero... E poi ha già scritto, no? È di 4 Shark! Quindi andate a seguirlo se volete vedere delle foto spaziali fatte dalla fotografa, che sta tenendo in mano la telecamera, che è Metka, scritto qua sotto sul profilo. Andate a seguirla, e se il video vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi, commentate, condividete, ma se avete un'auto che fa più casino di questa, iscrivetevi. Alla prossima puntata, ciao! 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 The watering film in your eyes Doing the things they know Talking about the same old stories they've heard About the people they think they know But did you ever try to puff on the right side Put it up in your mind But did you ever try to puff on the left side Put it up in your mind It's gonna be hard You, you run, try and roll all your mind You, you run, try and roll all your mind You, you run, try and roll all your mind You, you run, try and roll all your mind You, you run, try and roll all your mind Grazie a tutti.